Grazie. Grazie a tutti. 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 tali suggestioni, il nostro discorso non può non iniziare che da un documento che si apre con le seguenti parole. Il latino lo dico una volta, poi non lo dirò più. Pateat omnibus fidelibus, quod ego Valdesius et omnes fratres mei. Ego Valdesius, non ego Petrus Valdesius. Sappiano tutti fedeli che io, Valdesio, e tutti i miei fratelli. Cosa devono sapere? Nel documento segue una lunga professione di fede che ripropone un antico modello ecclesiastico risalente addirittura al secolo V e variamente utilizzato in seguito, tanto che gli stessi contenuti saranno ripresi nella dichiarazione di apertura delle costituzioni emanate dal quarto concilio lateranense del 1215. Il nome di Valdesius compare dunque in un documento di carattere dotto, la cui redazione risale senza dubbio a chierici di cultura elevata. Questi chierici sono individuabili nel seguito del legato apostolico pontificio Enrico di Marsio di Clairvaux, cardinale episcopo di Albano, che nel 1180 tiene una riunione ecclesiastica a Lione. Ne riferisce un testimone oculare, il monaco cistrecense Goffredo di Oxer, all'interno del testo di un sermone espirato all'Apocalisse. L'oramai anziano monaco ricorda le circostanze nelle quali aveva incontrato il prestigioso confratello delegato papale, che si stava recando nel mezzogiorno di Francia con il compito di intervenire nella difficile situazione là esistente, una situazione turbata sul piano delle credenze religiose e della convivenza politica. perciò detto negozium pacis et fidei. Anche a Lione la situazione era turbata a causa di quella che veniva detta setta, composta di uomini e donne che si presentavano come apostoli e apostole, ma che in vero erano persone, dice il monaco, disprezzabili, che usurpavano l'ufficio della predicazione, benché fossero del tutto quasi letterate, ma ancor più prive dello Spirito Santo, e che attraversavano città e villaggi sotto il pretesto della povertà e la scusa della predicazione, vivendo in modo impudente del pane altrui senza lavorare con le proprie mani. Queste minacciose esperienze religiose rindiavano a un iniziatore, che proprio durante il sinodo lionese, convocato dal legato, avrebbe riconosciuto i propri errori, accettando di sottomettersi alla disciplina ecclesiastica. L'iniziatore, chiamato Valdesio, dal luogo di nascita, abbiurò tale setta nel concilio di Lione, convinto da ragioni manifeste della propria sacrilica presunzione. La presunzione di Valdo consisteva nell'avvero usurpato l'ufficio della predicazione, insieme ai suoi seguaci uomini e donne. Due dunque erano le violazioni del diritto canonico, secondo quanto si leggeva in modo inequivocabile, in un'importante raccolta di canoni, il decreto di Graziano, in cui, nel modo più assoluto, si interdiceva la predicazione alle donne, mentre ai laici era concesso di predicare soltanto dietro esplicita richiesta dei sacerdoti. Il testo dice, mulieris in ecclesia taciant, le donne in chiesa stiano zitte. Ma questo lo diceva da Paolo, non è che lo sentirete prossimamente. Era un famoso teologo di sinistra, ma un maschilista di destra, ma questo capita nella vita anche contemporanea. A Lione, nel 1180, le questioni sopraccennate non furono risolte. Si convenne invece di accettare e formalizzare la scelta evangelica di Valdo e dei suoi fratres, condensandola in alcune frasi assai efficaci. Qui bisogna che vi lega il latino perché è troppo bello, poi mi perdonerete, perché è bello, è pregnante, è forte. Comincio italiano. E poiché la fede, secondo l'Apostolo Giacomo, senza le opere è morta, seculo abrenunciavimus, et quea bebamus, velut a domino consultum est, pauperibus erogavimus, et pauperes esse decrevimus. ita ut decrastino sollicitis esse non curamus, nec aurum, nec agentum, velagliut preter victum et vestitum, quotidianum, a quoquam accepturis unus. E poiché la fede, secondo l'Apostolo Giacomo, senza le opere è morta, abbiamo rinunciato al secolo e le cose che avevamo, come dal Signore consigliato, abbiamo distribuito ai poveri e abbiamo deciso di essere poveri, tanto da non curarci di essere solleciti del domani. Ne riceveremo da chi che sia oro o argento o altro, oltre il vitto e il vestito quotidiani. Siamo 1180. queste frasi poi hanno fatto fare molti dei miei colleghi intelligenti strani paragoni con il cosiddetto francescanesimo di frate Francesco, ma qui siamo 40 anni prima, come dichiarazioni formali. Valdo e i suoi fratelli accettano di sottoscrivere una lunga dichiarazione di fede e un sintetico proposito di vita formulati con un linguaggio dal punto di vista contenutistico e concettuale superiore alle loro conoscenze dottrinali. Tuttavia l'intenzione pauperistico evangelica presenta aspetti di grande interesse, lasciare ogni cosa che si possiede per darla ai poveri, poveri dal punto di vista economico, sociale e culturale, per farsi poveri del Cristo, uscendo dal secolo senza adeguarsi a un qualsiasi ordine definito all'interno del corpo ecclesiastico, senza divenire chierici o monaci, rinunciare al secolo senza entrare in un monastero o in una canonica o in una comunità ospedaliera, osservando i consigli evangelici, soprattutto povertà, castità, continenza, obbedienza, come se si trattasse di comandamenti. Per Valdo e Fratelli nel 1180 non è prevista alcuna posizione nei quadri della Chiesa Cattolico-Romana. Essi sono soltanto testimoni del Vangelo scelto nella sua radicalità e vissuto senza garanzia alcuna, non preoccupandosi del domani, accettando soltanto l'indispensabile per la sopravvivenza quotidiana. Non c'è però qualsivoglia pretesa di esclusività o di preminenza, riconoscendo che anche quanti rimangono nel secolo e possiedono propri beni, facendo elemosine e altre opere benefiche, con le proprie sostanze, osservando i comandamenti di Dio, si salveranno. Nel 1180 a Lione non viene però risolto il problema che riguardava il diritto e dovere dei poveri del Cristo di annunciare la buona novella, l'Evangelo. Tale problema si trascinava dal marzo dell'anno prima, quando al Terzo Concilio Lateranense del 1179 si erano presentati all'assemblea ecclesiastica dei valdesi, definiti uomini di nessun conto, illetterati, cosiddetti dal loro primate Valdo, che era un cittadino di Lione sul Rodano. Di questa presenza informa un testimone oculare all'italiana Walter Mapp, all'inglese Walter Mapp, un aristocratico canonico inglese che incontrò di persona gli stessi che lui definisce valdesi, avendo ricevuto l'incarico di accettarne le conoscenze teologiche e bibliche. L'accertamento si imponeva perché quei valdesi, con molta esistenza, chiedevano che fosse loro confermato il diritto di predicare, confermato dal Papa, al quale avevano presentato un libro scritto in lingua romanza, in cui erano contenuti il testo e la glossa del Salterio e moltissimi libri di entrambe le leggi, cioè del Nuovo e del Vecchio Testamento. È facile immaginare, e non c'è chi non veda, la clamorosa novità derivata dalla conversione evangelica di Valdo, dal quale, con ogni probabilità, i suoi seguaci avevano acquisito l'interesse per i testi sacri. Il libro dei valdesi riportava oltre che il Salterio, cioè il libro dei Salmi, e molti altri libri dell'Antico e Nuovo Testamento, la glossa ordinaria, il commento che ordinariamente veniva usato alla Bibbia, ai versetti biblici, mostrando così una volontà e un impegno di conoscenza scritturale che andava ben al di là di una rudimentale e letterale lettura della Bibbia. Bibbia e commento che venivano conosciuti attraverso la lingua volgare dei laici, che così partecipavano all'universo in lingua latina, all'universo dei Chierici. Il secolare monopolio biblico e culturale dei Chierici veniva incrinato mettendo potenzialmente in discussione l'esclusivismo chiericale così nelle relazioni con il Dio cristiano e con il sacro, come in una ecclesiologia fondata e costruita sulla eminenza e sulla esclusività del sacerdozio. Per Walter Mapp fu facile dimostrare che i valdesi pur ritenendosi esperti erano in realtà astento degli scolaretti, arrivando addirittura ad eriderli per la loro ingenua ignoranza teologica. Tuttavia il canone inglese non mancò di mettere in rilievo la loro pericolosa esemplarità evangelica. Cito Costoro, i valdesi, non hanno dimore stabili in alcun luogo, vanno in giro a due a due, a piedi nudi, vestiti di lana, nulla possedendo, ma avendo ogni cosa in comune come gli apostoli, seguendo nudi il Cristo nudo, e poi qui c'è un pezzo che è una bellezza, e iniziano ora in modo assai umile, poiché stentano a muovere i passi, ma se li ammetteremo saremo cacciati fuori, se li ammetteremo nel corpo ecclesiastico, non si può non notare la finale preoccupazione del canonico inglese circa gli effetti destabilizzanti e dirompenti di una loro dei valdesi eventuale emissione nel corpo ecclesiastico. Nonostante o proprio a causa dell'esemplarità evangelica del modo di essere e della vita quotidiana dei valdesi. Effetti destabilizzanti e dirompenti nei confronti di una chiesa fatta di chierici che avevano dimore stabili, non vestivano di lana, possedevano beni, non mettevano ogni cosa in comune come gli apostoli, non seguivano nudi il Cristo nudo. Esistevano nel medesimo tempo ragioni canonistiche che ostacolavano una soluzione positiva della questione di Valdo e dei suoi fratres. A Lione nel 1180 ci si era limitati a formalizzare l'esemplarità evangelico-pauperistica, pauperes s.s. de crevimos. Non si era risolto il problema della predicazione, predicazione che Valdo e seguaci continuavano esercitare conducendo essa alla loro scomunica. Ciò risulta da quanto riferisce il frate predicatore Stefano di Borbone, il quale, prima di morire nel 1261, era stato più volte in Lione ed era entrato in contatto con due chierici, Bernardo Idros e Stefano Dans, che non solo avevano conosciuto Valdo, ma avevano corroborato con lui traducendo per lui, dietro compensa in denaro, i primi libri in volgare romanzo. Ma leggiamo altre parti chiarificatrici tratte dallo scritto di frate Stefano. In quella città un uomo ricco, quidam dives, ricco di beni, quidam dives rebus, detto valdense, avendo udito i Vangeli, non essendo molto letterato, curioso di capire a fondo che cosa dicessero, si accordò con i detti sacerdoti, con uno affinché li traducesse per lui in volgare, con l'altro affinché scrivesse quanto quello gli dettava, cosa che fecero. Così tradussero molti libri della Bibbia e molte autorità dei Santi Padri, raccolte per titoli, che chiamano sentenze. Leggendo spesso e imparando a memoria questi testi, il detto cittadino si propose di osservare la perfezione evangelica come avevano fatto gli apostoli. Venduti tutti i suoi beni, in disprezzo del mondo costrui distribuiva ai poveri il proprio denaro, come fosse fango, ed ebbe la presunzione di disurpare l'ufficio stesso degli apostoli, predicando per le vie, le piazze, i Vangeli, le cose che aveva imparato a memoria, e raccogliendo intorno a sé uomini e donne, che si comportavano allo stesso modo dopo aver fissato nelle loro menti i Vangeli. All'origine della conversione religiosa del ricco cittadino di Lione, ci sarebbe il suo essere curioso. Nella cottura chiericale del tempo, l'aggettivo conteneva una intrinseca negatività. La curiosità intellettuale spinge Valdo a sconfinare nei campi propri ed esclusivi del genere dei chierici, desiderando capire a fondo i contenuti dei Vangeli, che era abituato ad ascoltare in chiesa, soltanto in latino. L'ostacolo era costituito dalla sua modesta formazione culturale, che gli impediva di comprendere a pieno il latino. Utilizzando le sue ricchezze, paga due giovani chierici, affinché gli traducessero in volgare romanzo quattro Vangeli. Già questo fatto è di eccezionale rilevanza nella cristianità latina del pieno medioevo. Un laico si impadronisce dei contenuti di una parte fondamentale del Nuovo Testamento mediante la traduzione nella lingua quotidiana. Si apriva così una strada che in maniera potenziale metteva a disposizione di tutti i laici i testi sacri, che più non avrebbero necessitato della impositiva mediazione dei sacerdoti. Valdo insiste e si fa tradurre un numero cospicuo di altri libri della Bibbia, a cui affianca la versione in volgare delle autorità dei Santi Padri, ordinate in modo razionale e tematico, tanto da essere considerate vere e proprie sentenze. come dimenticare allora che secondo Walter Mep e i valdesi, recattisi al concilio lateranese del 1179, avevano presentato a Papa Alessandro III un libro scritto in lingua romanza, in cui erano contenuti il testo e la glossa del Salterio e di moltissimi libri dell'una e dell'altra legge. Il secondo momento della conversione evangelica di Valdo prevede la lettura frequente e la memorizzazione dei testi scritturali, di cui ora dispone in forma linguistica familiare. Ne ricava la spinta decisiva alla scelta della perfezione cristiana, nell'imitazione degli apostoli, liberandosi di ogni ricchezza e dedicandosi all'annuncio della buona novella. non solo. Egli mette in moto un meccanismo che via via moltiplica il numero di coloro che sul suo esempio si fanno apostoli, dopo aver imparato memoria quanto Valdo già aveva appreso e trasmetteva loro. La predicazione orale fondata sulla lettura dello scritto diviene comunicazione orale. I seguaci acquisiscono attraverso la parola detta la capacità di ridire la stessa parola. In questo caso parrebbe senza ricorrere alla parola scritta. E l'annuncio della buona novella si fa parola nuova, subito comprensibile e fruibile, essendosi ridotta la distanza tra chi parla e chi ascolta. Anzi, chi ascolta può diventare, qualore lo voglia, uno che parla. In quali ambienti e strati sociali l'esemplarità di Valdo aveva fatto presa? Chi lo aveva seguito? Secondo frate Stefano di Borbone si tratta di individui, uomini e donne, prima occupati in mestieri di scarso prestigio e rilievo sociale. Sembrerebbe che i seguaci di Valdo non fossero del suo stesso livello socio-economico, occupati invece in attività artigianali e forse commerciali di consistenza e respiro modesti che gli aristocratici chierici consideravano vilissimi. La qualificazione sociale dei primi valdesi rinvia laici non appartenenti ai centri aristocratici o altoborghesi, laici che la cultura chiericale non poteva non disprezzare quando essi, benché rozzi e illetterati, su invito di Valdo, percorrevano la città e si spingevano nelle campagne intorno a Lione, annunciando la buona novella nelle piazze, nelle case e persino nelle chiese e facendo nuovi addetti. I motivi per preoccupare e molto le gerarchie della chiesa non mancavano certo. D'altronde, deciso era l'orientamento verso la testimonianza cristiana attiva e comportante una predicazione che comunque non possiamo non pensare molto semplice, di tipo morale, accompagnata dall'invito a innalzare lodi di ringraziamento e di celebrazione nei confronti di Dio. Questo aspetto, unito alla problematica accettazione di che semplici laici, uomini e donne pretendessero di impadronirsi delle sacre scritture, senza la mediazione dei dottori ecclesiastici, complicava e non poco le cose. Quale garanzia di ortodossia Valdo e poveri in spirito potevano dare? I farsi apostoli da parte di uomini e donne, sul piano sociale e culturale inadeguati alla missione apostolica, secondo i chierici, non andava forse anche contro il diritto canonico e quindi costituiva una minaccia per l'ordinamento ecclesiastico. Valdo ebbe presto dei seguaci, alcuni dei quali, abbiamo visto, sono al suo fianco nel 1180. Il documento che venne redatto allora parla di fratres. Uomini erano anche i valdesi recatisi a Roma nel 1179. Il monaco Goffredo di Oxer, che nel 1180 era presente alla sinodo di Lione, accentua invece il rilievo della presenza femminile, esprimendo il suo sdegno intorno alle apostole, che continuerebbero a trovarsi nel seguito di Valdo e che costituirebbero una delle prove della violazione dell'accordo intervenuto nel 1180. La violazione riguardava anche altri aspetti della testimonianza cristiana di Valdo, di cui ancora informa frate Stefano di Borbone. Poiché a causa della loro sconsideratezza e ignoranza diffondevano dovunque molti errori e scandali, furono convocati da Giovanni, arcivescovo di Lione, il quale proibì loro di intromettersi nell'esposizione e nella predicazione delle scritture. Ma essi ricorsero la risposta data dagli apostoli. Il loro maestro, usurpando l'ufficio di Pietro, con la stessa risposta data ai principi dei sacerdoti, disse, obbedire a portet magis Deo quamo minibus. Atti 5, 29. Occorre obbedire più a Dio che agli uomini. Quel Dio che aveva comandato gli apostoli, predicate l'Evangelo a ogni creatura. Marco 16, 15. Come se Dio avesse detto a loro ciò che aveva detto agli apostoli, pertanto Costoro, ossia Valdense e i suoi, dapprima caddero nella disobbedienza a causa della loro presunzione e per aver usurpato l'ufficio degli apostoli, quindi nella contumacia, infine sotto la sentenza di scomunica. La testimonianza di Stefano di Borbone è assai importante perché illustra un momento decisivo della vicenda di Valdo e dei suoi seguaci. Il nuovo arcivescovo di Lione, Giovanni Bellemani, che nel 1182 era succeduto al suo predecessore Guiscardo di Pontigny, mette il suo concittadino davanti a una scelta non evitabile, imponendogli di limitarsi a quanto spetta al suo status di laico-religioso, senza invadere gli spazi peculiari dell'ordine chiericale relativi all'esposizione e alla predicazione delle scritture. La reazione di Valdo è ferma, in quanto radicata in versetti neotestamentari indiscutibili. Sembra profilarsi una consapevolezza che si motiva nella precedente decisione di farsi poveri del Cristo, completandola in senso apostolico. I pauperes Cristi, in quanto tali, rivendicavano l'irrinunciabile diritto-dovere dell'annuncio dell'Evangelo. Al loro rifiuto di adeguarsi alla propria precisa richiesta, il prelato lionese, espelle dalla città Valdo, e soci, che perciò si sarebbero dispersi nel settentrione d'Italia e nel mezzogiorno di Francia, entrando in contatto e mescolandosi con altri retici e così andando incontro alla scomunica. La scomunica giunse nel 1184 con la decretale, con un atto pontificio intitolato ad abolendam, con le prime parole, Papa Lucio III. In questa decretale si legge che sono colpiti da anatema, catari e patarini e coloro che con falso nome mentendo si chiamano umiliati e poveri di Lione, passaggini, giosefini, arnaldisti. L'elenco riporta nomi di eretici talora difficili da individuare. Nessun problema invece per umiliati e poveri di Lione, accusati di autodefinirsi in modo ingannevole, umiliati e poveri, usurpando nel loro falso nome le virtù evangeliche dell'umiltà e della povertà. Importante è sottolineare che, nella stessa decretale di Lucio III, dopo gli eretici dalla varia denominazione subiscono l'anatema quanti si dedicassero alla predicazione, in pubblico o in privato, badate senza averne avuta l'autorizzazione degli uomini di chiesa o dopo averne ricevuto la proibizione. La frattura tra gerarchie ecclesiastiche che spontaneamente cercavano di sperimentare forme più dirette e autonome di testimonianza cristiana appariva assai difficile da sanare. Il composito mondo degli umiliati della pianura padana, in poco più di 15 anni, nel 1201, riuscì a ricomporre la frattura con la chiesa di Roma. Quale invece il destino dei cosiddetti poveri di Leone? Dopo il 1184, dopo la scomunica, la documentazione su Valdo si dirada, mentre sui suoi seguaci, diretti e indiretti, si accresce. Si è detto volutamente seguaci, senza una identificazione più precisa, poiché intorno a essa si moltiplicano i problemi sia a livello linguistico sia in riferimento a vicende di rado chiaramente precisabili. Di norma i seguaci di Valdo sono detti valdesi, ma occorre chiedersi se si fatta denominazione non costituisca una scorciatoia deviante o una indebita generalizzazione genzione prodotte prima dalla cultura chiricale e poi dagli storici. Sarà bene perciò rifarsi con rigore ai documenti, alla documentazione, partendo dal più volte ricordato atto del 1180, nel quale i soggetti della professione di fede e del proposito di vita si dichiarano in modo esplicito Ego Valdesius e Tonnes Fratres Mei. Si tratta di un gruppo che si identifica e viene identificato nel proprio leader, ovvero Valdo, il quale ha fratres che ne condividono i modi di vita e le decisioni. Alcuni di loro, già lo sappiamo, si erano recati a Roma nel marzo 1179 e il canonico Walter Mepp li chiama Valdesi i in quanto seguaci di Valdo, aprimate ipsorum valde dictos. La lettera Pontificia ad Avolendam del 1184 parla a sua volta di Poveri di Lione, Pauperis de Lugduno, facendo pensare al Pauperis de Crevimus del 1180. Non c'è da stupire che non esistesse subito una precisa connotazione anche nominale di Valde Fratelli nel loro essere gruppo. Ancora con frate Stefano di Borbone si sottolinea una significativa pluralità di identificazioni. I valdesi sono così chiamati dall'iniziatore di questa eresia, il quale aveva nome Valdense. Sono detti anche Poveri di Lione, poiché là cominciarono a professare la povertà. Essi invece si definiscono, essi invece si definiscono, «Vo cantau dem se» «Poveri mi spirito», poiché il Signore dice «Beati, Pauperi, Spiritu», Matteo 5, 3. tre sarebbero dunque le denominazioni dei seguaci di Valdo, due attribuite loro dall'esterno, Valdesi, Valdenses e Pori Lione, Pauperi di Lugduno. Come precisano i verbi, sono stati detti, sono detti, è una denominazione voluta dai protagonisti, Pauperi in spirito, Pauperi Spiritu. chiamano, no? Vocan se, Pauperi Spiritu. La denominazione di Valdesi è modellata sul nome di Valdo, mentre quella di Pori Lione mette insieme il nome della città di origine e l'aggettivo sostantivato connotante esperienze religiose nate da una decisione evangelico-pauperistica. Si fatta connotazione si trova anche nell'espressione auto-identificativa «Poveri in spirito», che va sottolineata per il suo riferimento esplicito al notissimo discorso della montagna del Vangelo di Matteo, 5, 4, 10, di cui costituiscono le prime parole. Si ricordi che nel testo evangelico alla beatitudine dei poveri in spirito segue via via la beatitudine di afflitti, miti, affamati e assettati di giustizia, misericordiosi, puri di cuore, facitori di pace, perseguitati. Si tratta dell'inizio dunque del lungo e centrale ammaestramento che Gesù rivolge ai Suoi discepoli, presenti dei futuri. Di tale ammaestramento si appropriano Valde e i Suoi compagni, in modo voluto e dichiarato, assumendo l'identità di poveri in spirito. La pluralità di denominazioni rispecchia una realtà fluida alla ricerca di una propria collocazione nell'universo religioso ed ecclesiastico della fine del secolo XII. Alcuni chierici e monaci, in modo polemico e con toni comprensivi, oppure con toni comprensivi, si occupano di Valdesi e pori di Lione, piuttosto che di Valdon. Significativo è che negli anni Ottanta di quel secolo Pietro il Cantore, canonico della Cattedrale di Parigi, nei suoi commentari biblici si riferisce ai Luptunenses, lionesi, dando un giudizio positivo della loro attività di predicazione. Nonostante che conoscesse i provvedimenti ecclesiastici invece destinati a proibire di annunciare la buona novella. Del tutto opposta invece la presa di posizione degli ambienti monastici del Mezzogiorno di Francia, nei quali si insiste sulla illegittimità della predicazione dei valdesi e poveri di Lione. Abbiamo tra il 90 e il 93, il trattato di un abate Bernardo di Fontcote, abate di un abazia del Narbonese, abbiamo un trattato del monaco cistercense all'anno di Lilla, 1202-3, il quale redige un ampio scritto polemico circa la fede cattolica contro gli eretici del suo tempo. Tra gli eretici del suo tempo egli mette i valdesi. Questi sono detti valdesi da loro eresiarca che era chiamato Valdo, il quale come Teoda, guidato dal suo spirito e non da Dio inviato, inventa una nuova setta, tale da presumere di predicare pur senza l'autorità di alcun prelato, senza ispirazione divina, senza scienza, senza cultura, senza ragione filosofo, senza visione profeta, senza missione apostolo, senza istruzione maestro. Allora, naturalmente tutta questa gente devono essere chiamati piuttosto che maestri ingannatori perché nelle diverse parti del mondo seducono i semplici, allontanano dal vero piuttosto che spingere verso il vero. Il monaco Alain de Lille connota Valdo come individuo che genera una setta di individui travestiti da pecore ma dentro lupi rapaci, citando Matteo 7,15. Paragonandolo a quel Teoda ricordato negli atti degli Apostoli che si spacciava per inviato da Dio e il cui destino invece, poiché determinato soltanto dall'opera umana, non poteva non essere, per sé per tutti quanti credevano in lui, altro che di fallimento e di morte. I lupi travestiti da pecore affermavano di poter consacrare, legare e sciogliere, poiché il merito dà la potestà, non l'ufficio. E pertanto coloro che si dicono vicari degli Apostoli debbono avere l'ufficio apostolico, non solo colui che ha ottenuto il sacerdotio ma chiunque abbia il Cristo in se stesso. è, sai, difficile stabilire l'attendibilità di tali accuse, ma tali accuse se corrispondono a una realtà, tale realtà non è quella di Valdo, anzi è lontanissima da quella di Valdo, quale noi riusciamo a cogliere attraverso un'opera fondamentale che si chiama il libro antireticale, libera antieresis, opera degli anni 90 del XII secolo attribuita a un discepolo di un seguace di Valdo, un chierico, durando Dosca. In questa opera si riconosce agli ordini ecclesiastici il loro valore indipendentemente dalla vita di coloro che ricoprono gli incarichi ecclesiastici, benché moltissimi di costoro compiano opere malvagie, tuttavia essi hanno conservato la fede apostolica e i sacramenti ecclesiastici senza i quali nessuno si è salvato, senza i quali nessuno è salvato. Allora, i soggetti delle frasi appena riportate sono gli ecclesiastici della Chiesa Cattolico Romana, i quali, nonostante che in larga maggioranza tenessero comportamenti malvagi, tuttavia avevano conservato e trasmesso la fede apostolica e i sacramenti. La vicarietà apostolica di Valdo non coinvolge il sacerdozio, bensì riguarda la testimonianza evangelica. Per Durando Dosca, dopo gli apostoli della Chiesa Primitiva, compare, o è comparso, Dominus Valdesius, il signor Valdesio, anche egli senza cultura, scelto si badi dal figlio del sommo padre per compiere una missione urgente, ossia opporsi agli errori poiché i prelati a causa delle loro opere malvagie non erano in grado di farlo. Ricordate, liber anti-eresis, opporsi agli errori comporta una testimonianza cristiana che ha una finalità di ortodossia, cioè una testimonianza contrapposta a quella eterodossa, denominata, che dalla Chiesa e dalla cultura chiericale era denominata Catara. Si tratta di una vocazione e di un impegno anche retticale di Valdo che gli uomini di Chiesa sottovalutano quando non stravolgono, connotandoli invece come avvicinamento alle dottrine eterodosse. Allora, Valdo viene coinvolto nella Historia Salutis, il figlio del sommo padre, vedendo l'opera dei prelati piena di peccati, ha scelto te, o signor Valdesio, per la missione apostolica. Questo è uno dei fatti più importanti che connotano l'interpretazione che Durandodosca dà di Valdo, un'interpretazione che pochi altri individui nella storia del cristianesimo stesso. La vocazione di Valdo è una vocazione che proviene dallo stesso figlio di Dio e questo non è di poco conto. Il tempo sta passando rapidamente e mi tocca ancora ricordare un'ultima cosa. fino al 82, poi c'è un lungo silenzio su Valdo e Valdo ricompare nel 1205, quando abbiamo testimonianze circa una frattura che si viene a creare tra i seguaci di Valdo oltremontani e i seguaci di Valdo di Valdo nella pianura padana tra i pauperes dell'Uduno e i pauperes lombardi. Questo avverrebbe nel 1205 e ci viene fatto conoscere da un'opera di polemica antireticale del 1235, una delle poche opere precisamente datate. Attribuita, uno dichiara, salvo Burca o di Burci un piacentino, che si dichiara anche laico, ma io avrei i miei dubbi, il quale tra tante altre cose scrive «E' manifesto che la Chiesa di Dio esiste dagli Apostoli fino a oggi ed esisterà di qui sino alla fine e che nella Chiesa di Dio vi devono essere vescovi, preti, diaconi, prepositi e così via». «Valdo era di Lione, fu il vostro capo e prima di Valdesio non avevate altro capo che la Chiesa romana e ciò può essere da circa 60 anni, quindi 235-60 fa 1275 e siamo lì». «Come potete allora credere che la Chiesa non esistesse prima di Valdesio?» E qui introduce «I poveri Lombardi si staccarono dai poveri di Lione e ciò circa 30 anni fa, 1235-1205, ed emerse Giovanni di Ronco che era il loro anziano ed era il letterato senza cultura. sembra riprodursi il meccanismo, ma sempre per testimonianza di Salvo Burca o di Burci voi avete letto, rivolgendosi ai papi di Lombardi, voi avete letto un altro capo «Dispiacendo a Gualdense o Valdo e ai poveri di Lione». Ecco, allora c'è una significativa frattura che peserà pesantemente sul destino di Valdo e probabilmente Valdo morirà poco tempo dopo perché noi già nell'agosto e settembre del 1207 abbiamo testimonianze di una serie di importanti seguaci di Valdo che si confrontano con i prelati del mezzogiorno di Francia e Valdo non esiste più. È quindi assai probabile che tra il 1205 e l'estate del 1207 Valdo sia morto. Ritorna curiosamente il suo nome nel 1218 quando a Bergamo si terrà un incontro tra i poveri i poveri di Lione ultramontani e i poveri di Lione italici. Non sappiamo fino a che punto i paupers italici corrispondano ai paupers lombardi ma queste sono questioni da professore universitario. Quello che conta è che a Bergamo nel 1218 le due societates dei paupers di Lugduno e degli italici cercano un accordo e non lo trovano. Di questo incontro viene fatto un resoconto che viene mandato ai paupers di Lugduno, ai poveri di Lione che sono in Alemania, in Germania. È un documento molto importante su cui varrebbe la pena di intrattenersi a lungo ma che vede Valdo coinvolto in tre grandi problemi. Il primo problema è se le societates, quella transalpina e quella cisalpina dovessero essere guidate da un preposito. Bene, secondo Valdo non doveva esserci nessuno che ricoprisse questa carica. Non voleva, si scrive nel documento, ricorda uno che Valdo non voleva che nella società dei fratelli oltremontani e nella società dei fratelli italici si creasse una qualsiasi forma di gerarchia. Quindi è assolutamente contro la costituzione formale, istituzionale. Dall'altra Valdo non condivide che gli italici hanno delle congregazioni laborantium, cioè avevano dei gruppi che vivevano, diciamo così, religiosamente, ma avendo terre, coltivando le terre, quindi producendo e quindi non dedicandosi totalmente alla predicazione apostolica. Questo Valdo non lo accettava. Da ultimo oggetto della discussione era il destino ultraterreno di Valdo. Per gli ultramontani, quella che si chiama anche società valdesiana, per i soci di Valdesio, Valdesio era sicuramente in paradiso. Per gli italici, per la società degli italici, Valdo era in paradiso. Se nella vita aveva chiesto perdono dei suoi limiti e dei peccati, si era riconciliato con Dio. Ecco, c'è una totale diversità di posizioni teologiche. Per gli ultramontani, Valdo era un santo, per gli italici era uno come gli altri, perché dicono, si chiami Valdo o Viveto, che vuol dire si chiami Valdo o Tizio o Caio, andrà in paradiso soltanto alle condizioni di essersi liberato. E questo pone una differenziazione enorme. Poi Valdo tramonta nelle testimonianze, proprio in relazione ai valdesi che prima Stefano ricordava, quelli delle mie parti, i valdesi contemporanei si chiamano valdesi ma con Valdo non hanno niente a che vedere, salvo intellettualmente eccetera. Perché quando ho studiato da piccolo le prime testimonianze di una presenza di cosiddetti valdesi risale all'inizio del quattordicesimo secolo e di Valdo non c'è la minima memoria, ma c'è la memoria di un grande mito, il mito della tradizione apostolica. Cosa che addirittura nell'ottocento venne ripresa dagli intellettuali valdesi, teologi, inventandosi il passaggio dell'apostolo Paolo nelle Alpi Cozzie che avrebbe lasciato il seme dell'autentico Evangelo. E invece dalle mie parti nasce il mito all'inizio del quattordicesimo secolo ed è in un registro inquisitoriale che i predicatori, che gli inquisitori chiamavano valdesi, raccontavano di essere discendenti di chi? Dei quattro apostoli ai quali erano rimasti l'autentico messaggio di Dio. Gli altri otti apostoli li avevano perseguitati perché i quattro che cantavano nei libri di Cristo avevano l'appoggio delle popolazioni. Allora gli otto invidiosi li hanno cacciati dalla chiesa, gli altri sono andati a cantare nelle piazze e gli otto invidiosi li hanno cacciati dalle piazze e li hanno costretti alla clandestinità. Ecco, noi siamo gli eredi di quelli che gli apostoli, gli otto che erano poi i fondatori delle chiese istituzionali, hanno represso fin dei tempi apostolici, per cui Valdo non serviva proprio a niente. Grazie. 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 Grazie.